Allora, questo è un video un po' diverso dagli altri perché non c'è niente da ridere e non c'è niente di cui discutere di calcio. Non c'è nulla di cui mettersi a fare battute, non c'è nulla inerentemente al fatto di provare a capire determinate persone e non c'è assolutamente nulla relativa alla comprensione. Perché il video che oggi vi posto qui riguarda un comportamento inaccettabile che io ho avuto modo di vedere ieri nel web e che è stato commentato da tante personalità del web, da parte di alcune persone, alcune redazioni, che definire veramente redazioni è un insulto a chi fa veramente il lavoro di informazione. Perché? Voi sapete tutto quello che è successo nelle scorse ore, purtroppo la madre di Cristiano Ronaldo, la signora Maria Dolores è stata colpita da... ha avuto un piccolo problema di salute, purtroppo è stata ricoverata in Portogallo. Le condizioni sono stabili, quindi auguriamo alla signora Maria Dolores di riprendersi al più presto e comunque diciamo a Cristiano Ronaldo prenditi il tuo tempo per dedicarti anche a quello che sta succedendo. Tutto ciò, alle moltitudini di messaggi di condivisione, di affetto, arrivati per il portoghese, da parte di ogni tifoseria, devo dire la verità, si sono poi contrapposti veramente degli atteggiamenti molto sbagliati. Ieri sera, dopo che Juventus-Milan è stata rinviata, il napolista, che è una testata, non ho neanche il coraggio di definirla tale, perché non so neanche che cosa sia veramente il napolista, secondo me è un blog di tifo più che una testata, ha pubblicato su Twitter un articolo veramente molto di cattivo gusto, di grande ignoranza, dicendo che la Juve aveva ottenuto il rinvio di Juventus-Milan semplicemente perché Cristiano Ronaldo non avrebbe giocato a causa del problema che ha avuto sua madre. Allora, innanzitutto, da questo punto di vista dimostra un'ignoranza impressionante che ha scritto questo pezzo, perché Juventus-Milan è stata rinviata per problemi che vi ho già spiegato, abbiamo già detto, c'è un esposto della prefettura, c'è un esposto della lega calcio, ci sono documenti legali che sono stati firmati che basterebbe leggere come ogni persona normale anziché fare congetture. In secondo luogo, mi meraviglio di chi gestisce quella testata, cioè come puoi strumentalizzare una cosa come un problema di salute che ha avuto una donna ricoverata in ospedale e comunque ora si è stabilizzata ma inizialmente comunque tutti c'eravamo impauriti. Come puoi strumentalizzare questa cosa per girare la frittata e dire che la Juve avrebbe tratto vantaggio da questa situazione perché siccome non avrebbe giocato Cristiano Ronaldo la Juventus avrebbe ottenuto il rinvio di questa partita. Trovo che il comportamento sia non solo inaccettabile, non solo ignorante ma di una proprio bassezza a livello intellettuale e a livello umano che io veramente non ho mai visto prima. Io per quanto mi riguarda, se fossi un organo di giurisdizione, un organo di controllo, io il napolista lo farei chiudere oggi perché c'è un limite alla rivalità e c'è un limite alla rivalità che avete instaurato voi perché personalmente non instauro rivalità con gente che ha la metà dei miei trofei ma neanche la metà della metà a prescindere da tutto questo, qualsiasi possa essere la rivalità, con che faccia da culo vi permettete di dire determinate cose. Bisogna essere degli animali per dire determinate, bisogna essere proprio delle belve selvatiche lasciate correre lungo i meandri del bosco per dire una cosa del genere perché se voi aveste anche un po', solo un po' di cultura e di umanità sapreste che strumentalizzare un problema di salute di una persona che non è stata bene, che non sta bene ancora oggi è proprio essere contro umani, proprio contro ogni forma di umanità. È un altro genio su Twitter e Tamburini oltre all'incredibile ammasso di deficienti che seguono queste persone e queste testate perché questi ragazzi avrei voluto essere gentili ma sono fondamentalmente dei, veramente sono dei deficienti perché solo dei deficienti possono trovare divertente o possono strumentalizzare questa cosa secondo me andrebbero tutti inibiti e multati veramente ci dovrebbe essere qualcuno all'interno del web che multi le persone quando hanno dei comportamenti disumani in questo caso c'è un comportamento disumano perché tu andare a prendere quello che è successo alla madre di Ronaldo rigirarlo a modo tuo e dire ah la Juve non avrebbe fatto giocare là quindi la Juve ha chiesto il rinvio per mettere in cattiva luce una società che si è già detta disposta ad ascoltare le proposte della rega calcio questa è proprio essere marci dentro cioè quando voi nascete, nasciamo tutti allo stesso modo poi nel corso della vita ognuno assume i propri atteggiamenti evidentemente siete stati abituati a trattare con persone come quelle che voi siete diventate persone di merda essenzialmente che non fanno altro che gettare fango sulla società anche a costo di andare a mettere in evidenza un problema di salute di una persona che non c'entra nulla perché pensare anche solo lontanamente che la Juventus abbia le mani sulla Lega quando nessun dirigente della Juventus fa parte del consiglio della Lega Calcio e strumentalizzare il fatto che la madre di Ronaldo abbia avuto un problema di salute molto delicato perché è molto delicato e dire il problema di salute Ronaldo non gioca la Juve ha chiesto il rinvio e l'ha ottenuto è da persone piccole così cioè io se fossi veramente nei vostri paesi io non uscirei più di casa perché queste persone andrebbero escluse dai circoli sociali queste persone andrebbero tolte dalla vita sociale della gente, della comunità, del mondo perché persone così sono proprio il male di questo sport fate proprio schifo come persone cioè quando tu sviluppi un sentimento di repulsione avete visto quando tu mangi troppo e ti viene il rigurgito fuori dopo il pranzo di Natale dopo il pranzo di Natale ecco quella è la sensazione che hanno avuto in me questi commenti la cattiveria con cui vi siete accaniti contro un problema di salute è veramente una delle cose più oscure più brutte, più becere più brutte, più stupide che io abbia mai visto nella mia vita e penso addirittura che queste persone abbiano diritto di voto cioè queste persone votano all'interno dello stesso paese in cui votiamo noi persone coscienziose ma ci rendiamo cuore ma dove vogliamo andare se di fronte a una situazione di salute si pensa no perché la Juve ha ottenuto il rinvio chiudete quel blog di merda che non vale a niente è pieno di articoli spazzatura gente che non azzecca un periodo grammaticale e sintattico neanche a pagarlo dilettanti allo sbaraglio che giocano a fare i blogger io ho collaborato con le redazioni giornalistiche se una di quelle penne si fosse permessa a un mio vecchio direttore di pubblicare un articolo del genere l'avrebbero bandito a vita dal lavoro fatemi sapere nei commenti grazie